Musica Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Per il campionato di Serie D, il Campobasso si prepara ad ospitare la Re Canatese. Gara chiave per gli ospiti chiamati a vincere per evitare la retrocessione. Trascorse le feste pasquali, il Campobasso è tornato a sudare in vista delle ultime tre fatiche di campionato. Nell'ordine Re Canatese, Agnonese e Pesaro a Selvapiana per chiudere i giochi. La squadra ha raggiunto l'obiettivo della salvezza attraverso il lavoro encomiabile del nuovo tecnico Massimo Silva, la cui gestione ha prodotto ben 18 punti e il lavoro anche dei giocatori rosso-blui, i quali, benché non sovvenzionati con la dovuta puntualità, hanno sempre profuso il massimo impegno sul terreno di gioco. A tal proposito si parlava di un possibile saldo del quarto rimborso stagionale, prima del rompete le righe per Pasqua, cosa che però non è avvenuta. Abbiamo sempre parlato di una partita più rilevante in questo momento della stagione, cioè quella societaria che sembra vivere una fase stagnante. Non si registrano novità su quest'ultimo fronte né di ingressi né di vendita di società. Evenienza questa che i dirigenti, sembra, non abbiano proprio preso in considerazione. Il Campobasso non va ceduto, almeno questo lasciano intendere dal quartier generale di Selvapiana. Altrettanto lecito però che il tifoso rosso-blu si interroghi su cosa ne potrà essere della squadra rosso-blu a bocce ferme, cioè tra meno di un mese. Ai posteri l'ardua sentenza. Sul campo i rosso-blu attendono la recanatese di mister Antonio Soda, tecnico che, a differenza del prossimo collega Silva, non ha fatto bene alla guida dei Leopardiani per una serie di motivi. Soda è stato capace di raggranellare solo 11 punti in 13 partite da tecnico della recanatese. Per i marchigiani la partita di domenica a Selvapiana avrà un valore incredibile. In programma ci sarà pure Castelfidardo Civitanovese, con pronostico che dice nettamente Castelfidardo. Quest'ultima squadra scavalcherebbe la recanatese se questa non dovesse espugnare Selvapiana. Dunque perdere o quantomeno non vincere domenica per la squadra di Soda potrebbe significare retrocessione diretta con due giornate ancora da disputare. Più importante di così sarà anche un confronto tra due allenatori, Silva e Soda, che si sono accomodati su panchine di categorie molto più insigni. Silva è stato all'Ascoli nella massima serie nel 2006. Soda fu così bravo da riportare lo Spezia in Serie B dopo ben 55 anni di assenza. Tra i cadetti lo stesso tecnico originario di Cutro guidò alla finale playoff il Benevento, poi sconfitto nella doppia partita dal Crotone di Moriero nel 2009. Insomma Soda è precipitato in quarta serie dove cerca con grandi dignità di strappare alla retrocessione una recanatese autrice per ora di un campionato di bassissimo livello. I leopardiani chiedono al Campobasso l'ossigeno necessario per rimanere vivi in Serie D. Qualcuno vocifera anche di una possibile panchina per Degano, ormai giocatore sulla via del tramonto. Per ora sono solo delle voci, è presto per dirlo. Certo è che la squadra di Recanati dovrà avere nelle proprie fila domenica prossima solo giocatori assolutamente motivati. Di mezzo ci sarà un lupo non proprio in vena di fare regali. L'Olimpia agnonese dista due punti dal quinto posto, ultimo piazzamento utile per entrare nella griglia playoff. Granata domenica al Civitelli se la vedranno con la Vis Pesaro. Basket di Cisilver si gioca questa sera gara 3 della finale playoff. Si torna a giocare al Palas Abbetta alle 19. L'Aerino Basket Termoli ospiterà il Silvi. Le due squadre sono sull'1-1, accede alla fase nazionale. Chi vince tre gare sulle cinque previste. Bocce si avvicina il doppio appuntamento con la bocciofila frosolonese del presidente Pasquale Mangione. Lunedì prossimo a partire dalle 14 è in programma il decimo Memorial Lelio Pallante il giorno successivo e prevista la gara individuale nazionale sempre nel ricordo di Lelio, ex sindaco di Frosolone ed editore di Telemolise, valevole come tredicesimo trofeo città di Frosolone. Campionato d'eccellenza, successo interno dell'Isernia ieri pomeriggio contro il Campo di Pietra. Dopo la lunga sosta per via del Torneo delle Regioni e le festività pasquali Isernia e Campo di Pietra tornano in campo per il recupero della tredicesima giornata del girone di ritorno. Rosso-blu ad un passo dalla matematica salvezza. Isernia per inseguire i play-off dirige il signor Petraglione della sezione di Campobasso. Prima del fischio d'inizio i tifosi bianco-celesti omaggiano con una targhetta il capitano Vincenzo Mingione per il suo forte attaccamento alla maglia. Partiamo però con la cronaca al minuto numero 8. Isernia avanti con Rega che scende sulla destra, calcia sul primo palo dove trova la risposta di Fratangelo. Ventesimo, prima discesa di Mingione sulla fascia, cross di prima intenzione per Cantoro che si gira ed infila Fratangelo per il gol dell'1-0. 5 minuti ancora il solito Rega, ribatte con i pugni il portiere ospite e Cantoro manda alle stelle. 36 abbondanti, in area rosso-blu Lombardi entra su Pitocchi, calcio di rigore. In favore dell'Isernia, Papa spiazza Fratangelo e porta due i gol della sua squadra. Sul finire di frazione ecco il campo di pietra, Cappelletti lancia Guglielmi che da posizione defilata fallisce l'occasione. Con le immagini montate da Danilo Scarinci ci trasferiamo al secondo tempo dopo tre giri di lancette. Annotiamo questa punizione insidiosa di Piccolo dove Fratangelo arpiona il pallone. 13esimo, Guglielmi da fuori richiama l'attenzione di Silvestri che disinnesca il tentativo dell'attaccante avversario. Di lì ad un minuto, cross dalla destra di Cappelletti, la difesa pentra si fa cogliere in preparata e moffa di mezzo allo svantaggio. Ci crede il campo di pietra con Nardachione appena entrato che ha subito l'occasione per pareggiare ma spedisce il pallone alto. 25esimo, lato opposto del campo, combinazione tra Chavez e Mingione con quest'ultimo che cade a terra dopo il contatto con Leccese. Tutto regolare per il signor Petraglione. Nella finale Lisernia prova a chiuderla. Destro chirurgico di Chavez dalla distanza con il pallone che fa tremare il legno. Ha recupero quasi esaurito. Giocata di alta scuola di Cantelmo che porta a spasso gli avversari. Sfera al centro, rimpallata. Arriva ancora Chavez che sfiora il tris davvero per un nulla. Finisce 2-1 in favore dell'Isernia che può festeggiare un'altra vittoria fondamentale. In ottica terzo posto, nell'altro recupero, la Lifa e il Pietra Montecorvino. Si sono divise la posta in palio con il punteggio di 2-2. Per l'Isernia sono arrivati tre punti per consolidare il terzo posto. Il commento del tecnico. Fabio Di Rienzo, allenatore dell'Isernia. Forse questa sosta è stata un po' troppo lunga tra il torneo delle regioni e la Pasqua ma siete tornati in campo e siete tornati al successo dopo il pareggio di Sesto Campano. Sì, è importante vincere oggi per continuare questa corsa ai play-off. Era una giornata un po' particolare dopo il giorno di Pasquetta. Non si giocava da un po'. Siamo stati bravi ad allenarci in questo periodo con continuità. Faccio complimenti ai miei ragazzi che oggi hanno interpretato al meglio questa gara e tre punti fondamentali. Un applauso forse anche a Vitale che al torneo delle regioni ha offerto il suo maiuscolo contributo. Sì, sì, ma Vitale è un ragazzo molto interessante ma come tanti altri ragazzi Rosa la nostra forza è il gruppo. Poi sono tutti ragazzi che hanno grande voglia di arrivare e speriamo bene. Tornando al campionato comunque mancano due partite. L'ultima è davvero insidiosa, quella col Guglionesi, ma dipende da voi perché se le vincete tutte e due giocherete questi play-off. Sì, è vero. Noi ci proveremo e ce la metteremo tutta. Non dimentichiamo che oggi in campo dal primo minuto c'erano otto under e la squadra più giovane del campionato siamo lì. Qualcuno a dicembre aveva parlato di una salvezza da raggiungere dopo diverse cessioni. Noi invece continuiamo a raggiungere e credere in questo sogno e ce la metteremo tutta fino alla fine. Ininfluente la sconfitta per il Campo di Pietra, il presidente nel post-gara. Nicola Iacovelli, presidente del Campo di Pietra, dopo questa sosta ci tocca commentare questa sconfitta con Lisene, forse magari avete pagato a caro prezzo l'approccio nel primo tempo. Sì, infatti purtroppo nel primo tempo abbiamo regalato due gol da nostre due disattenzioni e poi recuperare la partita contro Lisene non è semplice. Mancano due partite al termine del campionato, siete quasi salvi, è stata una buona stagione per il suo campo di pietra, quindi non potete far altro che essere soddisfatti e magari già pensare a programmare la prossima stagione. Sicuramente c'è tanta soddisfazione, tant'è che oggi a un certo punto abbiamo giocato comunque a viso aperto e alla Paticon contro Lisene, per cui grande soddisfazione e programmazione per l'anno prossimo, speriamo di fare meglio. Soprattutto sotto il punto di vista del campo sportivo dovete risolvere questo problema? Sì, infatti è un annoso problema che ci portiamo avanti oramai da tempo. Pensavamo già quest'anno di risolverlo e così non è stato. Siamo fiduciosi nell'intervento dell'amministrazione affinché l'anno prossimo possiamo finalmente giocare sul nostro campo e avere risultati sicuramente migliori vista la presenza del nostro pubblico. Una doppia soddisfazione per Del Riccio, secondo portiere del Macchia, che con la maglia del suo paese ha conquistato la promozione in Serie D. È uno dei portieri del Macchia, ma non è secondo a nessuno del Riccio, soprattutto perché rappresenta il Molise. Ma rappresenta il Molise da un punto di vista di esperienza, di chi ha fatto sacrifici per indossare quella maglia che indossi e ad oggi raccogli i frutti di tanto lavoro perché con questa squadra vai a raccogliere l'abbraccio più bello che è quello della Serie D. Esattamente, sono fiero di stare con questa squadra e soprattutto con la squadra del mio paese che è Macchia di Sernia. Ho sperato tanto veramente di indossare questa maglia ed essere comunque il primo portiere della storia di questo paese di Macchia a stare in eccellenza e a vincere anche il campionato di Serie D. Senti, secondo portiere lo possiamo dire perché Biasella è il primo, preparato dei portieri, massaggiatore, fatto di tutto pur di portare questa squadra e il campionato di Serie D, alla fine è arrivato veramente il frutto di tanto lavoro. Esattamente, e come dicevo prima, il merito anche di tutti i ragazzi e soprattutto anche del mio collega Biasella di rimanere comunque a subire pochissimi gol, anche perché abbiamo anche questo record, come dicevo appunto, quindi record di soli 9 gol subiti. Rimaniamo comunque a questo ritmo e portiamoci nel cuore del mio paese. E poi tanta esperienza da dare, da illustrare a questi ragazzi, quelli che si avvicinano al mondo del calcio, soprattutto cercare di fare sacrifici per quello che uno deve ottenere, ovvero guadagnarsi una maglia sul campo ed oggi per i ragazzi, oggigiorno, non è facile. Assolutamente non è facile no. Sono gratificato comunque di questa situazione che giustamente, come dico io, il karma ripaga in tutto. Quindi fiero comunque di rimanere in questo paese e poi nei campionati prossimi vedremo cosa fare. Campionati nazionali universitari. Il Cusso Molise di calcio a 5 è tra le migliori 8 squadre d'Italia. La selezione di Marco Sanginario è approdata la fase finale dei campionati nazionali 2017, che si svolgerà a Catania, eliminando il Cusso Napoli. Nel match di ritorno giocato ieri al Pala Unimol, i molisani hanno vinto ai rigori 9 a 6, ribaltando così il passivo di 2 a 0, rimediato all'andata. Calcio a 5 di Serie B. Sabato impegno a Reggio Calabria per la Chaminade, dalle 16 ospite del Cataforio per il match d'andata dei play-off. Sabato 29, il ritorno alla palestra Sturzo. Franco Bossi, presidente della Chaminade, dunque vi ha prestato a vivere questo finale di stagione? Questa squadra calabrese giocherete sulla formula di andata e ritorno? Sì, diciamo che ci è capitato il posto più lontano forse dove potremmo andare a giocare. Forse pure questo sarà un segno. Diciamo che questa Serie B ce la vogliamo tenere stretta, andiamo lì a giocare l'andata e il ritorno in casa. Speriamo che poi alla fine le cose andranno per il meglio per noi. Ecco, ovviamente adesso bisogna guardare al futuro perché è giusto che sia così, però insomma qualche rammarico c'è, soprattutto per qualche gara in casa che poteva portarvi dei punti importanti per la salvezza. Sì, diciamo che qualche rammarico ci sta, però poi alla fine il campo detta la legge. Evidentemente potremmo fare forse qualcosa in più, però oppure forse questi siamo e questi siamo riusciti a fare. Certo che se andiamo a fare il conteggio tra i vari gironi, tra le squadre che fanno i play-out, siamo quella che ha fatto più punti di tutti quanti. Quindi anche da questo punto di vista diciamo che ci siamo ben comportati. Assolutamente, assolutamente. Insomma il campionato è stato molto livellato, molto equilibrato, ha tolto l'Isenia che poi naturalmente lo ha dominato, però insomma la Chaminade ha avuto grandissime giornate, però adesso se la può giocare al massimo in questi play-out. Sì, adesso ce la giochiamo senza paura, andiamo lì, faremo sempre le nostre partite aggressive, come il mister ci ha abituato per tutto il campionato e speriamo, come ti ho già detto, che alla fine il risultato sarà positivo. Biliardo sarà a Montenero di Bisaccio ad ospitare la prossima tappa del torneo di Carambola Pool 15, organizzato da Tribisonno Biliardi e Giochi. La data è quella di venerdì, il torneo inizierà alle 18 e per la prima volta sarà una gara 1 contro 1. Campionato di prima categoria, reduce dal K.O. di Trivento, il Chiauci si prepara ad ospitare il Pesche. Per i padroni di casa l'obiettivo allungare per allontanare la zona rossa. Antonio Padura del Chiauci sconfitta pesante qui a Trivento, eppure eravate partiti bene, poi cosa è successo? Eh sì, la partenza è stata ottima, però siamo scesi molto fisicamente dopo il gol e vabbè, Trivento è molto superiore a noi, bellissima squadra, vabbè l'obiettivo nostro era quello di salvarci e stiamo andando bene per la salvezza. Ora speriamo di fare la prossima vittoria in casa col Pesche per ci salvare ad ottimo punteggio. Una sconfitta quindi che non rovina affatto la vostra classifica, l'obiettivo lo avete quasi raggiunto, e quindi un camionato che comunque penso vi abbia consentito anche di crescere come gruppo, come squadra, soprattutto per lanciare qualche elemento interessante. Sì sì, il nostro obiettivo quindi era quello di salvarci, quindi va bene così, oggi la sconfitta ci stava tutta. Podismo proseguono i preparativi per la quinta edizione della Corsa del Cuore, gara non competitiva aperta a tutti. in programma martedì 25 aprile organizzata dalla Runners Termoli e la sezione Abis del centro Basso Molisano. Bene, era l'ultima informazione per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Grazie.